I operatori sono pronti, gli operatori sono pronti. Appendiamo l'usica ufficiale per 5 giorni. L'evento è accettato. 5, 3, 2, 1... L'Untilazione 2015 è l'Untilazione 2015 e l'Untilazione 2015 è aperta! L'Untilazione 2015 è stata un'escalata per la città di L'Untilazione 2015. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.